L'ultima inchiesta, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, getta luce sull'evoluzione del traffico di droga nel Vibonese, evidenziando le connessioni tra i broker associati ai Mancuso e le nuove figure di vertice nel narcotraffico locale. Questo studio approfondito del fenomeno rivela come il commercio illecito di sostanze stupefacenti, originario principalmente da Limbadi, Mileto e Il Poro, abbia estese ramificazioni internazionali. I procuratori Rene Crea, Andrea Buzelli, Antonio De Bernardo e Anna Maria Frustaci hanno condotto un'indagine che si basa sulle vicende degli anni 2000, concentrando sui suoi importanti broker come Vincenzo Barbieri, ucciso in un agguato nel 2011, e Francesco Ventrici. Questo percorso investigativo ha visto il susseguirsi di diverse operazioni come Decollo, Replay, Adelphi e Stammer, culminando in operazioni più recenti come Nemea, Rinascita Scott e Maestrale Cartago, che hanno portato all'esecuzione di 11 misure cautelari nei giorni scorsi. Le indagini degli ultimi anni hanno delineato chiaramente i clan più attivi nel settore del narcotraffico vibonese, tra cui spiccano Prostamo Pititto Giannello di Mileto, Soriano di Filandari, Fiare Gasparro Razionale di San Gregorio di Pona e naturalmente Imancuso, in particolare due esponenti del cassato mafioso di Limbadia e Nicotera, noti come i Luni, Pantaleone e Scarpuni, e l'omonimo cugino detto l'ingegnere, avrebbero giocato inoltre un ruolo chiave nella rivalità tra diversi gruppi di narcotrafficanti che ha portato a scontri violenti e omicidi di rilievo. Secondo gli investigatori, Peppone Accoriniti, considerato il capo del poro, avrebbe appoggiato Imancuso in questa lotta, rappresentando oggi un elemento di continuità nella presunta nuova organizzazione di narcotrafficanti vibonesi. Accanto a lui si presume la presenza di Michele Galati, il quale ha involontariamente rivelato dettagli della sua esperienza sul campo durante intercettazioni dei carabinieri, menzionando il trasporto fino a 500 kg di stupefacenti con la propria auto.